Quel preciso istante, Onrush è esplosso. I presenti hanno avvertito gli amici, che hanno chiamato altri amici, che l'hanno riferito ai genitori. Un istante dopo, tutti gli occhi erano puntati sul vostro folle spettacolo da buffoni. Così vi siete stretti in cerchio per fare fronte comune e avete preso il comando delle vostre squadre. Sembrate tanti piccoli genitori orgogliosi, che teneri. Allestito lo scenario e scelti i nomi delle squadre. Beh, era tempo di scendere in pista per dare inizio alle danze.